Musica Fratelli d'Italia in piazza per manifestare contro la privatizzazione di Banca Italia. Guardia di finanza Operazione Hammer 2. In manette l'imprenditore calabrese Pasquale Capano. Saldi d'inizio anno, a quanto pare gli italiani spenderanno meno. Va in scena a Palazzo Barberini l'arte del pittore rinascimentale Antoniazzo Romano. Pareggio inaspettato tra Lazio e Juventus, 1 a 1 all'Olimpico. Buongiorno e benvenuti al TG Roma. In apertura la politica. Questa mattina davanti a Montecitorio sit-in del Movimento Fratelli d'Italia per protestare contro la privatizzazione di Banca Italia. C'erano per noi Costanza Giannelli e Jacopo Pigoni. In piazza contro la privatizzazione di Banca Italia. Questa mattina Fratelli d'Italia si è dato appuntamento davanti a Montecitorio per protestare contro il decreto legge del governo Letta. L'operazione di rivalutazione delle quote, secondo il partito della Meloni, favorisce ingiustamente gli istituti di credito privati a discapito dei cittadini. Noi non vogliamo che i cittadini vengano tenuti all'oscuro di un'operazione molto grave e molto pesante. Si sta svendendo la Banca d'Italia che già oggi non è sotto il controllo diretto dello Stato ma almeno c'è una governance che in qualche modo protegge da intromissioni strane. Domani ci sarà una situazione grave e pesante che sostanzialmente potrà vedere l'infiltrazione dei gruppi di criminalità organizzata, potrà vedere l'utilizzo da parte della finanza nazionale e internazionale contro gli interessi dei cittadini. Banca d'Italia rischia di uscire totalmente dal controllo dello Stato, del governo, della democrazia italiana e questo noi non lo possiamo ammettere e soprattutto vogliamo dire ai cittadini che il governo Letta sta facendo questo gravissimo colpo di mano. Il governo ha deciso di porre la fiducia nonostante le proteste delle opposizioni. Opposizioni che si sono scagliate a più riprese contro il colpo di mano dell'esecutivo accusato di aver nascosto agli italiani la manovra. Il decreto, voglio ricordarlo, è stato approvato dal governo quasi silenziosamente di nascosto il giorno in cui decadeva Berlusconi al Senato. Quindi si è voluto scientificamente mettere la sordina su questa grande questione. Al settino improvvisato solo poche persone, fra loro però diversi deputati e alcuni ex ministri. Alcuni speravano nella presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che in aula erano stati più accesi oppositori dell'operazione di privatizzazione. Oggi però l'unica forza politica a manifestare è stata Fratelli d'Italia. È un tema che nei giornali e nelle televisioni riprendono perché nessuno si mette contro le banche sia soprattutto i giornali quotidiani perché gli azionisti sono normalmente le banche pensiamo al più grande quotidiano italiano e poi perché è un tema che fa paura a tutti tutti vogliono tenersi buone banche assicurazioni e grande finanza e hanno paura di denunciare al Paese questo furto vergognoso che oggi viene sancito con un voto di fiducia impedendo al Parlamento di dibattere anche solo del tema. È l'ennesimo regalo che questo governo servo con tema finanziario. Fratelli d'Italia oggi qui e qui in piazza a dire no. La proposta di Fratelli d'Italia è quella di attuare una legge già votata dal Parlamento nel 2005 e che guarda caso non è mai stata attuata che è quella di restituire le quote della proprietà di Banca Italia allo Stato perché la Banca d'Italia era banca degli italiani e del popolo italiano. C'è un problema legato alla sovranità monetaria, c'è un problema legato alla detenzione della riserve aure e non pensiamo che si possa trattare come fosse una qualunque azienda da svendere e da regalare ai propri amici o agli amici degli amici. Ed ora la cronaca. Importante operazione contro l'Andrangheta condotta dalla Guardia di Finanza di Roma. Le Fiamme Gialle hanno arrestato Pasquale Capano, noto imprenditore calabrese, con l'accusa di aver favorito l'organizzazione criminale. I particolari nel servizio di Anastasia Fedele e Giuseppe Pucciarelli. Sfruttava la propria attività imprenditoriale nel settore turistico immobiliare per favorire il clan Muto, uno dei più potenti dell'Andrangheta. Questa è l'accusa che ha portato stamattina all'arresto di Pasquale Capano, imprenditore calabrese da anni residente a Roma. L'ordine di custodia cautelare, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, nell'ambito dell'operazione Hammer Chu. In manette, oltre a Capano, sono finiti anche la moglie e il cognato. L'imprenditore avrebbe utilizzato società intestate a prestanome per realizzare delle operazioni finanziarie destinate ad agevolare l'Andrangheta e in particolare il clan Muto di Cetraro, nel Cosentino. Secondo la Distrettuale, Capano agiva da vero e proprio referente dell'Andrangheta a Roma. Più che un'appartenenza, è una fratellanza. Così l'imprenditore ha definito il suo legame con l'organizzazione criminale in una lettera inviata a un pregiudicato mafioso, missiva che è stata rinvenuta nel PC di Capano dalle Fiamme Gialle durante una perquisizione. E voltiamo pagina. Acquisti in calo nel periodo di saldi d'inizio anno. Questo è quanto emerge dalle previsioni del Codacons. Le nostre inviate, Martina Biocca e Martina Mottura, sono andate a sentire cosa ne pensano i romani. A 20 giorni dall'inizio dei saldi, solo il 35% delle famiglie ha deciso di approfittare dell'annuale ribasso dei prezzi. Un 5% in meno rispetto all'anno scorso, con una spesa che tocca un tetto massimo di 200 euro per famiglia. Il Codacons, già dal 2010, aveva proposto di anticipare i saldi natalizi per arginare il calo di acquisti del 30% previsto per quell'anno. Ma vediamo come stanno andando gli acquisti in via del Corso, luogo simbolo dello shopping romano. Io nei saldi manco una lira. Lei? Ma io poco. Poco? Sì, sì, sì. Quindi è vero, i consumi comunque stanno calando? Decisamente. Codacons ha sostenuto che non sarebbero stati spesi a famiglia più di 200 euro. Voi avete speso di più o di meno? Trovate che sia effettivamente così? Più o meno la spesa è stata quella. A discapito poi dei regali di Natale o i regali di Natale comunque sono stati fatti come sempre? Come sempre. Ma sì, più o meno come sempre. Magari cose più utili però, diciamo, non sciocchezze. Lo compriamo solo a prezzo pieno. Ed ora passiamo alla cultura. Ultima settimana per ammirare nella Capitale le opere del pittore Antoniazio Romano. I dettagli da Valentina Princic ed Antonella Troisi. Un anello di congiunzione tra tardo gotico e di nascimento. È così che si può descrivere lo stile originale del maggior pittore romano del XV secolo. Continua a Palazzo Barberini la prima mostra monografica del Pictor Urbis, che si affida a colori puri su sfondi dorati in opere di grande suggestione e altissima qualità. Un esempio si ritrova nella raffigurazione dell'Arcangelo Gabriele e della Vergine Annunciata, uno di fronte all'altro su questa tela di grande valore artistico. Tema ricorrente in Antoniazzo è la compassione, espressa nello sguardo amorevole delle madonne. L'esposizione comprende 50 lavori tra politici, grandi pale d'altare, piccoli dipinti devozionali come figure ieratiche di madonne santi. La mostra offre al pubblico un viaggio nel rinascimento quotidiano, che stupisce per la raffinatezza della sua pittura. L'arte del pittore, da Anna Cavallaro e Stefano Petrocchi, si potrà ammirare fino al 2 febbraio. Parliamo dell'unico artista del rinascimento romano, veramente romano, nato a Roma. Egli nasce infatti nel 1435, muore a Roma nel 1508. Dal testamento sappiamo che egli era un artista ricchissimo, lascia una famiglia numerosa ma soprattutto lascia molti beni, il che significa che era un artista amato, apprezzato e che ha lavorato molto nella città. Antoniazzo Romano ha saputo fino alla fine portare avanti un suo linguaggio artistico, stilistico molto originale, molto particolare, che deriva dalla conoscenza della grande pittura rinascimentale del Perugino, di Melozzo, del Pinturicchio, mantenendosi però sempre fedele alla tradizione medievale della pittura romana del Trecento. E questo si vede soprattutto nei fondi oro. E chiudiamo con lo sport. Finisce in pareggio l'anticipo serale di Serie A tra Lazio e Juventus. Prova tutt'altro che remissiva per gli undici di Reia che fermano a dodici la serie di successi consecutivi della squadra di Conte. Sentiamo il commento tecnico di Carlo Nesti nel servizio di Legna Capilongo e Valentina Soria. La Lazio secondo lei meritava qualcosa di più? Ma, infatti, è stata un'attività bellissima. Soprattutto il riferimento secondo te, in quanto le squadre erano allunghiate, tutti e due cercavano di vincere ed è stato veramente un'attività con continui e approfondimenti di fronte. Credo che sia stata bella perché da punti di vista diversi, le due squadre, potevano a sede una partita. Cioè la Lazio poteva sicuramente meritare di più di rapporto agli inseriti, il fatto che ha coltito ben due tali e naturalmente tali che avrebbero incestimato il successo. Mentre invece l'aiuto di tutto meritava di più di rapporto al fatto che ha mascherato benissimo, però è finalmente tutta una partita, la l'interiorità romerica e, in particolare, nella prima parte del secondo te, dopo aver parecciato, ha cercato, l'ha detto, tanto al corregioso di essere in quella fase superiore agli avversari. Quindi il bello della partita è stato proprio questo, che tutte le due le formazioni, visto diversi, potevano a sede di più al risultato finale. Per il nostro DG è davvero tutto. L'appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci. Grazie a tutti.